A giochi senza barriere 2023, Unitalsi, che contributo oggi darete, cosa farete, ma quali sono le vostre attività più in generale sul territorio? Oggi inizia dopo tre anni questa bellissima manifestazione, tesa appunto ad includere le persone con disabilità nel tessuto sociale della normalità. Noi Unitalsi nasciamo da 120 anni, abbiamo una storia di 120 anni, a Napoli da 40 anni e più, oltre che accompagnare persone nei vari pellegrinaggi Lourdes, santuari internazionali italiani, ci occupiamo anche dell'inclusione di queste persone nel tessuto sociale. Nella fattispecie, soggiorni estivi, soggiorno invernale, a gennaio ad esempio abbiamo tenuto per la prima volta, si è tenuto un corso di sci per disabili al Sestriera, organizzato da noi. Oltre questo, con il progetto Abilmente abbiamo organizzato dei corsi di equitazione per persone disabili, o corsi di nuoto, o avvicinamento delle persone con disabilità a nuoto. Tutto perché pensiamo che lo sport possa essere un volano in più per queste persone, soprattutto dal punto di vista psicologico. Quindi oggi siamo presenti qui con questi due stand, offriamo intrattenimento per i bambini, ci presentiamo come associazione e niente, questa magnifica atmosfera che è quella dei giochi senza barriere. Grazie.